Fuoco! Ecco qua! Ci siamo conosciuti a Venezia, al festival, veniva presentato... Guardate a Parigi, per esempio, vedete il Ponte delle Spie, sentirete il Domenze? Doppiato, in francese naturalmente. L'ho sentito a Parigi con le schuaglie, le tonsoie, le pettone, le schuaglie, il... E' mio. E Jack Lemmon che si comp... Io ho un excellent, io really excellent, venne a vedere me a teatro, lo so, non ci... E' poco credibile, però è successo. Ti amo, Marina Tagliaferri. E' un selezionatore automatico, questa mappina lo stavo usando per un imbroglio di telemarketing, invece il delinquente... Pisci quello che dico? Pisci o no? No, io pisci. Pisci. Ma io capisco... Se siamo uniti, scoprirai che c'è un grande amico in me. I consigli? Beh, che dirvi, signore e signori, il nostro è uno dei mestieri più belli del mondo. Il mio maestro Vittorio Gassman e da allora ho passato tanta acqua sotto i ponti, ho lavorato con tantissimi altri grandi del teatro. Io non mi sento un attore a metà, bensì io mi sento un attore raddoppiato. Io mi sento un doppio attore, mi sento. A questo dico, sono proscenica, anacoluto, anadiplosi, queste cose. C'ho sempre come un brido erotico, insomma. Mi dà sta cosa. 35 anni fa c'erano soltanto due cose, i film normali che sono al cinema e i film porno. No, 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 ti prego, mi no. Non sono una cassa. Non sa che voglio dire? Se proprio devo dire qualcosa è bentornati alla Stark Expo!